E' la grande novità dei prossimi giochi olimpici, velocissimo e avveniristico. In Acra 17, catamarano di 5,20 m per equipaggio misto, può raggiungere i 25 nodi di velocità a quasi 50 km orari. I triestini Lorenzo Bressani e Giovanna Micol li abbiamo incontrati in esclusiva nelle acque di casa. Mi è venuta proprio la voglia di provare i catamarani, da lì sono andato un po' sul Formula 18 e da considerarle delle barche da spiaggia, mi sono innamorato della barca, mi diverto come un matto proprio uscire anche a mezzo al mare solo. La selezione per la prodiera veniva fatta in maniera molto facile, prendi le riviste degli ultimi dieci anni che hanno vinto, che hanno fatto le cose fatte per bene, con costanza e per tempo e viene fuori solo il nome di Giovanna. La vela sta diventando appunto una corrente da considerare molto, molto tanto quanto il vento. Sarà anche qua da capire bene come funziona la baia con le correnti entranti e uscenti e come interviene anche la costa che comunque è molto alta. Purtroppo l'acqua non è tanto pulita e sarà ad abituarsi anche a quello. Comunicare in barca nella maniera giusta senza aprire troppo la bocca. Grazie.